E' un suono temuto ma allo stesso tempo amato da alunni e insegnanti e quello di oggi ha dato il via alle lezioni del nuovo anno scolastico per oltre 200.000 marchigiani. Per l'occasione il presidente regionale e gli assessori hanno effettuato diverse tappe per salutare gli studenti. Luca Ceriscioli ha visitato gli ex alunni dell'ITIS Mattei di Urbino mentre l'assessore all'istruzione Loretta Bravi dopo essersi recata nella sua scuola l'istituto omnicomprensivo di Sasso Corvaro ha raggiunto l'istituto di istruzione superiore Alessandro Volta dove in Aulamagna si sono riunite tutte le rappresentanze del polo scolastico 3 di Fano. Ad accoglierla la dirigente Anna Gennari. Assessore ha portato anche qua il suo saluto, tra l'altro lei è una docente. Io sono una docente di storia e filosofia da 30 anni, prima maestra e quindi il mondo della scuola diciamo che l'ho attraversato e mi sento soprattutto docente oggi con molta nostalgia ma anche con un bel saluto per questi ragazzi perché lavorerò per loro. Che messaggio si senti di lanciare a questi giovani? Il messaggio ai giovani diciamo così vorrei essere un po' leggera, prendere questi verbi che Pennac dice che sono verbi fragili, educare, governare, amare. Ecco, i ragazzi devono ritrovare la fiducia in loro stessi, comprendere che la scuola è un percorso per sé e soprattutto che oggi si è competitivi dal villaggio alla città. E quindi io direi di credere in loro stessi e soprattutto di curare la relazione perché il mondo virtuale, e cito un'altra persona molto cara ai giovani Jobs, il mondo virtuale crea anche molta solitudine. Quindi io direi di curare i loro amici e soprattutto chiedere agli adulti un metodo, pretendere un metodo.